Quanto sei contento per il tuo primo gol? L'hai fatto a San Siro? Sì, un'emozione unica, grandissima, sono molto felice. Il mio primo gol tra professionisti in uno stadio così importante contro una grande squadra. Sono molto contento. Ecco, il tuo ingresso ha aiutato la squadra a non essere ancora più propositiva, ma abbiamo visto oggi una bellissima Odinese. Questo è il vero volto della squadra che volete mostrare sempre. Sì, ci teniamo a fare bene oggi, era una partita complicata, ma a scuola tempo abbiamo quasi anche dominato più di loro e quindi è andata bene, è un punto che ci dà coraggio. Ecco, quel coraggio che vi servirà anche per affrontare le partite a partire dalla prossima con la Sampdoria contro le squadre che bene o male sono nella stessa nostra zona di classifica. Quanto è importante capire che questa squadra con questo atteggiamento se la gioca con tutti? No, con questo atteggiamento possiamo giocarci con chiunque. Sappiamo che contro la Sampdoria sarà difficile, ma siamo pronti a fare una grande partita. L'ultima che ti faccio, tu sei stato subito protagonista, pur giovanissimo ti sei subito in posto qua a Udine. Questo gol può essere un ulteriore trampolino di lancio per la tua stagione, per finire a tutta questa stagione in Mieconero? Sì, spero di fare ancora meglio, dare il mio contributo il più possibile e di divertirmi tanto qua all'Udinese. L'ultima in quella zona di campo ti sei divertito anche col Tukup e Reina, non si è tentati insieme, avete fatto tante combinazioni molto bene. Sì, il Tukup è un giocatore straordinario, lo sappiamo tutti, molto forte e con lui mi trovo davvero bene.